Come dovrà essere rimodellato il rapporto fra tecnologia, lavoro e industria? Più che rimodellato, la tecnologia lo sta già rimodellando da sola. La tecnologia già da anni, da decenni, è nata per sostituire il lavoro. Ma questa sostituzione del lavoro oggi sta assumendo una dimensione che non ha precedenti. Stanno sparendo molto rapidamente tanti lavori che davamo per scontatti, lavori soprattutto in fabbrica ma ormai anche in ufficio. A fronte di questa scomparsa cambia completamente il rapporto fra persona e azienda. L'organizzazione di oggi, le imprese di oggi, le industrie di oggi non possono più garantire un lavoro a vita come era negli anni del boom economico. Perché la tecnologia produce una tale evoluzione nei prodotti, nei mercati, nei bisogni dei consumatori la stessa società cambia a fronte di queste tecnologie che permettono un'interconnessione totale fra di tutti con tutti, che la prospettiva su cui l'azienda può pianificare il suo futuro è sempre più breve e soprattutto sempre più emergente. E quindi questo costringe l'azienda a chiedere cose sempre nuove ai suoi collaboratori. e questo vuol dire anche che certi collaboratori, tutti diciamo, i collaboratori devono continuamente aggiornarsi e modificare il loro set di competenze per poter far fronte a queste richieste sempre diverse che vengono dalle aziende e ovviamente riflesse dalle cambiamenti del mercato. Io ho detto che sta già cambiando, invece lo stravolgimento temporale quando avverrà? Lo stravolgimento temporale, anche questo sta già avvenendo, dopo nella presentazione vedremo che parto proprio da alcuni dati, proprio per far vedere come sta cambiando la distribuzione non solo delle risorse economiche ma anche dei lavori fisicamente da un punto di vista logistico, geografico. Un dato ce lo dà? Un dato è che abbiamo negli ultimi 50 anni la crescita del reddito delle famiglie è del 13%, scusate, gli ultimi 40 anni, a fronte di una crescita del PIL dell'80%. Questa cosa come si spiega? Si spiega per il fatto che il lavoro sta venendo sostituito dalle macchine. Se però spacchiamo questo dato e andiamo a vedere le diverse categorie, le diverse componenti di questa crescita del reddito familiare, vediamo che le famiglie in cui i componenti sono più formati, hanno livelli di istruzione più alti, hanno competenze più alte, hanno avuto una crescita del reddito personale e familiare analoga, se non addirittura superiore, a quella dell'economia. Le famiglie che possiedono al loro interno meno competenze, hanno invece, stanno vivendo una sorta di stagnazione del loro reddito in termini reali e questo si sta enfatizzando sempre di più con il tempo. Unito a una dislocazione geografica del lavoro sempre più differenziata fra le zone attrattive e le zone non attrattive, questo sta producendo una rivoluzione veramente nelle strategie che le persone debbono avere per garantirsi una crescita, uno sviluppo, il successo, se vogliamo, una carriera che non esiste più o che è sostituita da qualcosa di diverso nel futuro. Come si strutturerà, secondo lei, il rapporto fra mondo del lavoro, fra industria e tecnologia, visto che la tecnologia rivoluziona un po' la nostra vita? Si strutturerà un po' con il fiatone, però spero si strutturi con delle finalità positive. C'è da formare però anche all'utilizzo della tecnologia. Io ho lavorato non in industrie, fabbriche, ma ho lavorato in società che si occupano di servizi e molto spesso la tecnologia che si utilizza è già passata da qualche anno e magari a casa si hanno programmi o software più avanzati. Poi in Italia la banda larga non esiste, parlo per i servizi. Per quanto riguarda, quindi formazione, penso, sia la risposta. Questi eventi del Future Forum sono per lei informativi, sono importanti? Sì, ma spero siano di stimolo più che altro perché poi ognuno ha la sua storia personale che lo porta ad avere un certo rapporto con l'occupazione che svolge e quella che potrebbe svolgere secondo la preparazione e quella che vorrebbe. Sono degli spunti. Appena è iniziato, vediamo adesso che cosa ne viene fuori. Dottoressa Più, queste giornate di formazione sono importanti per chi ha a che fare col mondo del lavoro, per gli imprenditori per esempio? Certo, sono importantissime ed è un evento, ci pensavo, organizzato dalla Camera di Commercio che ha natura straordinaria per diversi ordini e motivi. Innanzitutto per le modalità organizzative. Pensiamo a sei settimane caratterizzate da un susseguirsi di eventi, anche concomitanti, e tutti caratterizzati da un filo conduttore che è il pensare al futuro. Allora noi ci viene spontaneo pensare che l'uomo è naturalmente proiettato verso il futuro, anche il lavoro dell'uomo per obiettivi, per traguardi da raggiungere. Però se riflettiamo al momento storico che stiamo attraversando, alla recessione economica, alle situazioni di incertezza anche dei sistemi paese, dove necessariamente siamo orientati a pensare al quotidiano e al mantenimento dello stato attuale, anche dal punto di vista dell'imprenditore, alla gestione della sua impresa, ecco che questi incontri che hanno un filo conduttore e sono tutti orientati al futuro ci possono invece aiutare ad avere una visione e una previsione sul futuro. Quando sappiamo quanto è difficile, avere certezza anche del presente. Secondo lei questo rapporto nuovo che si dovrà strutturare, insomma, fra lavoro, fra industria e tecnologia, visto che la tecnologia la modificherà, come andrà a definirsi nel futuro? Allora, è difficile conoscere come andrà a definirsi. Noi possiamo fare delle valutazioni partendo dalla situazione attuale. Sappiamo che abbiamo un manifatturiero che nel tempo abbiamo trascurato, a vantaggio di altre attività, specie pensiamo al terziario, ai servizi. In questo momento di difficoltà economica, vediamo invece e riscopriamo l'importanza del manifatturiero. E quindi dobbiamo trovare il modo di valorizzare le attività produttive, ma anche artigianali, quindi il fare, il produrre un prodotto, il realizzarlo. E dobbiamo stare attenti a non perdere quelle competenze che abbiamo acquisito in questi anni. Professor Pitteri, lei ha elaborato questa mappa su dove andrà il mondo del lavoro, come si interconnetterà con la tecnologia, come si interconnetterà anche con l'industria. Dove si va con questa mappa? Beh, questa mappa noi l'abbiamo fatta proprio come strade. e l'abbiamo voluta rappresentare come strade, sintetizzando il lavoro che hanno fatto i maggiori istituti di ricerca internazionali che indagano il futuro. E questa mappa che cosa ci racconta? Se noi la guardiamo troviamo appunto dei percorsi che si stanno compiendo. Alcuni di questi sono inquietanti, altri invece sono molto radiosi. Nel lavoro troviamo entrambe questi due aspetti. Ci sono sicuramente degli elementi di preoccupazione perché si potrebbe disgregare un mondo del lavoro e si potrebbe creare delle eccessi differenze fra ricchi e poveri e fra datori di lavoro e lavoratori o al contrario si potrebbe creare una nuova classe di lavoratori molto dinamici, molto intelligenti con una grande capacità di organizzarsi da solo e di collocarsi nella società con una posizione autonoma. Io la mappa l'ho vista, sembra un po' la mappa di una metropolitana con tante fermate. Di solito c'è anche un percorso, una strada che è preferita e preferenziale. Di tutte queste linee qual è quella che secondo lei è più avveniristica? Beh, quella più avveniristica è sicuramente quella della scienza e della ricerca perché lì ci sono gli elementi più estremi. Quella più concreta su cui noi dobbiamo ragionare perché secondo me è lì che si innesta tutto quanto e quella è la città. La trasformazione della città accompagna la trasformazione del lavoro e l'industria della scienza e anche naturalmente della trasmissione ai saperi. E quello è il territorio che noi dobbiamo coltivare molto perché è in quei territori, appunto in quel nucleo, la città intesa come comunità oltre che come infrastruttura che abbiamo la possibilità di costruire veramente il nostro futuro.